Ci sono un po' di cose nell'aria. E questo è solo l'inizio, è una minaccia però sarà così. Ricordate allora i nomi degli artisti che sono presenti su questa compilation, quindi c'è Angelica Lubian, lui è salmato, non so chi sia, poi c'è Lucas Pavan, che sarebbe la stanza di Lucas o astronauti ovunque, ha vari nomi, poi c'è Mick Gales, che avete visto adesso, Tony Longheo, che quindi dopo ci farà un pezzo anche lui a sorpresa, Michi Martina, che è qua pronto, Francesco Embriaco, Franco Giordani, Dario Snidaro, Piero Cagnellutti, che è anche lui qua presente e suona dopo alla girada, Bratisca e Maurizio Perosa. Caggiano gli occhi, la musica è viva, che semplice è l'amore che come una vesca matura al sole. Caggiano gli occhi, la musica è la musica, Caggiano gli occhi, la musica è la musica, Caggiano gli occhi, la musica è la musica, Lecce è la musica, la musica è la musica, non saprà mai sei così vera di sé la città il da qua su cui va nella piccola casetta e ballano tra i bar e 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 grazie e grazie e 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